e con noi a dire no alle discariche nel Parco Nazionale del Vesuvio. Ordiniamoci gli adulti in mezzo alla piazza Rotonda e i bambini fateli avanzare. Un grazie di cuore al Rega Ambiente, al MWF, alla Lipu, che vengono qui a manifestare insieme a noi per la salvaguarda e la tutela dell'ambiente. Fate entrare i bambini in questo spazio davanti al palco. Ai bambini c'è l'animazione guidata dal Movimento Difesa Aria Vesuviana. C'è l'acqua per tutti. Siamo davvero in tanti. Abbiamo sentito il dovere di venire qui a protestare e a manifestare.